Come ti chiami, come ti chiami, come ti chiami, come ti chiami Intanto c'è un principio che secondo me gli italiani avrebbero diritto a non essere bombardati una volta al mese di un nuovo partito che nasce Sinceramente mi verrebbe voglia di dire con il cittadino normale dateci un po' di tregua Non è possibile che tutte le volte che c'è un problema anziché risolvere il problema si fonda un partito nuovo e si immagina che il partito nuovo abracadabra sia quello capace di risolvere i problemi che nel frattempo non si sono risolti Non è possibile che non mi interesse da l'ho Non è possibile che non mi interesse da l'ho Non è possibile che non mi interesse da l'ho Non è possibile che non mi interesse da l'ho Come ti chiami, come ti chiami, come ti chiami Come ti chiami, come ti chiami, come ti chiami Non è possibile che non mi interesse da l'ho Grazie a tutti